Alcune ore fa il cantante romano Eros Ramazzotti, ha festeggiato il suo sessantunesimo compleanno in una location molto particolare. Per l'occasione ha organizzato un pranzo con amici e colleghi, e tra le foto della giornata spensierata, sono spuntati degli scatti con una bionda misteriosa. La donna non è un volto sconosciuto nel mondo dello spettacolo, in quanto ha partecipato a un celebre dating show. Eros Ramazzotti di nuovo innamorato dopo la rottura con Dalila Gelsomino? Cosa sappiamo? Eros Ramazzotti lo scorso 28 ottobre ha spento 61 candeline e per festeggiare ha scelto un luogo a lui molto caro, K, De Bosco di Erbusco, in Franciacorta, dove vive da diversi anni. Nel posto immerso nella natura può ritrovare la privacy tanto agognata, ed è riuscito a costruire diverse amicizie durature. Per la giornata speciale il cantante ha scelto di festeggiare organizzato un pranzo con alcuni amici e colleghi. Nonostante l'artista non abbia condiviso neanche una foto dei festeggiamenti sul suo profilo Instagram, ci ha pensato la moglie di Max Pezzali, Deborah Pelamatti, a farlo. Con i suoi follower ha condiviso alcuni tra i momenti più divertenti della giornata che ha visto protagonista Eros circondato dai suoi amici più cari. Tra gli scatti e i video pubblicati c'è una foto che ha catturato l'attenzione dei più curiosi. Abbracciata al cantante romano c'è una misteriosa bionda. I due sembrano affiatati e complici e sul web si è creato molto rumore per cercare di comprendere chi fosse la donna del mistero. La bionda fotografata insieme al Neo 61enne si chiama Natalia Angelini, e non è un volto sconosciuto al mondo della televisione. Oltre ad essere un'imprenditrice, infatti, è conosciuta per aver partecipato al dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne, come tronista. La showgirl ha condiviso alcuni scatti della festa di compleanno del cantante romano, utilizzando gli hashtag, amici, e, friends. In rete, però, in molti sospettano che tra il padre di Aurora Ramazzotti, e la donna ci sia molto di più. Per saperne di più dovremo aspettare nuovi aggiornamenti social, o avvistamenti fotografici.